Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Ancora un buongiorno a tutti i nostri ascoltatori Circa 500 persone si sono riunite ieri sera nella Basilica di San Lorenzo a Firenze per ricordare Davide Astori alla funzione in memoria del capitano presenti oltre la famiglia e i tanti tifosi anche i della Valle Pioli, l'intera squadra della Fiorentina e gli ex gigliati Pasquale e Badel Intanto con il ricordo del capitano sempre presente continua la preparazione dei Viola in vista della sfida contro il Cagliari Questa mattina allenamento a porte chiuse per gli uomini di Pioli Le condizioni di Chiesa e La Font si valuteranno all'ultimo minuto Ancora in dubbio la loro presenza per il match contro i Sardi Veretù sarà invece certamente assente per squalifica Dabo e Gerson per sostituire il francese Intanto ieri l'incontro tra squadra e proprietari ha ricompattato l'ambiente La parola d'ordine e unione per questo finale di stagione Per Fiorentina1.com Beatrice Canzenda Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola